La bicicletta di Philippe Gilbert per il 2012 è la BMC Team Machine SLR01, è lo stesso modello che usano tutti i corridori della squadra americana e nel caso del corridore belga è stato evidentemente personalizzato con i colori del belgio, visto che Philippe è campione in carica 2011. Philippe utilizza una misura 53, quindi una misura molto compatta rispetto alla sua statura longilinea. La componentistica è tutta Shimano di classe Dureis, ovviamente Shimano elettronico, così come sono tutti i gruppi di trasmissione dati in uso alle squadre sponsorizzate da Shimano e in particolare Gilbert utilizza un escamotage molto pratico sulla curva manubrio, utilizza i due comandi remote per azionare la cambiata anche durante gli sprint. Ruote e componentistica sono della Easton che fornisce il medio profilo EC90SL e tutto il gruppo di guida in alluminio di serie EA70. La lunghezza della pipa manubrio è di 11 cm, mentre l'altezza sella è di circa 75 cm e troviamo montata una Fizik Antares con scafo e telaio in carbonio. Così come la vediamo montata, la bicicletta ha un peso di 6 kg e 800 g, esattamente in linea con quelli che sono i regolamenti USEI.